8 e 15 minuti ben ritrovati qui su Cristal Radio in diretta sempre dagli studi di San Siro di Milano All News qui con noi già in studio e lo vedete anche per chi è collegato su milanonews.it l'avvocato Giovanni Motta, buongiorno avvocato buongiorno anche senza il titolo ci teniamo perché soprattutto oggi tocchiamo un tema importante, interessante, difficile perché diciamo è un tema comunque difficile e quindi giustamente ci avvaliamo dell'avvocato così ci serve in questo caso il suo titolo Giovanni allora oggi parliamo di CPR velocissimamente ricordiamo che cosa sono i CPR allora io sono qui come in veste di rappresento la rete mai più lager no i CPR che ormai da settembre 2018 quindi da 5 anni è sempre sul pezzo per cercare di informare sulla cittadinanza milanese e non solo sui CPR i centri di permanenza per i rimpatri perché a Milano anche sono passati il CPR aperto a Milano nel 2020 settembre 2020 pandemia quindi abbiamo aperto in pandemia il CPR a Milano sono i centri di permanenza per i rimpatri ovvero sono delle carceri dove vengono detenuti in via amministrativa si dice così detenzione amministrativa persone straniere solo persone straniere che vanno in quel posto che si chiama CPR in via Corelli a Milano dove ogni diritto viene annichilito io sono senza documenti perché non sono riuscito ad aggiornare il mio permesso giorno perché ho perso il lavoro controllo notturno questo è l'esempio faccio ho già fatto qui quando sono stato ma è quello più calzante mi fanno il controllo notturno ops non ho i documenti vado al CPR che è come un carcere chiunque senta una persona straniera che è stata lì dice che è peggio del carcere perché il carcere ha un suo regolamento c'è il regolamento penitenziario i CPR no ci sono dei regolamenti se c'è per il carcere la legge è la fonte primaria sono invece per i CPR sono regolamenti sono amministrativi circolari esatto circolari ministeriali che possono cambiare cambiano e quindi si vive in una sorta di Giovanni vediamo se ho capito bene io faccio sempre questo esempio ecco insieme mi fermano e perché sono un po' distratto non ho fatto la revisione alla macchina si accorgono che non ho la revisione alla macchina e a parte sequestrarmi la macchina mi portano e mi mettono dentro e ti ingabbiano purtroppo è così in una gabbia fatta apposta per quelli che non hanno revisionato la macchina perché quello no cioè non mi mettono insieme ai ladri a quelli che hanno fatto gli altri perché appunto io non ho fatto niente di penalmente perseguibile ho fatto un illecito amministrativo e quindi tu vieni tra l'altro gestito da privati che vincono appalti a ribasso ok quindi immagino come fai a vincere un appalto a ribasso facendo meno di quello che serve da fare con un appalto a ribasso io mi ritrovo in un posto dove probabilmente non ho assistenza sanitaria perché l'assistenza sanitaria questa è la parte più grave su cui noi come Rete Mai Piolagher abbiamo molto insistito e che ha avuto anche come dire ecchi anche nei media nazionali alla fine tu diventi una persona a cui viene somministrato psicofarmaci ecco perché questo perché la situazione la situazione è così pesante per un qualsiasi essere umano insostenibile che poi alla fine si arriva a quello esatto perché si è visto anche Regnus ha fatto anche un reportage a fine settimana scorsa perché per evitare le ribellioni perché poi stiamo parlando di giovani uomini di 20, 25, 30 anni che si ritrovano in un posto che noi chiamiamo Lager ma che lo è in fin di conti perché dormi per terra non hai alcuna assistenza non hai l'avvocato fortunatamente c'è il centralino del Naga ma chi è che è difficile poi c'è chi è che lo conosce il centralino del Naga se sono arrivato in Italia magari da poco oppure non ho un avvocato a cui rivolgermi e quindi io la cosa che sembra questo comunista qua di Giovanni Motta che usa questi paroloni non è solo parole sue giusto queste sono parole di senatori di gente che è stata lì dentro perché l'assurdità di tutta la storia è che lo stesso Stato si è autodenunciato per questa cosa spiegaci un po' come è stato il garante giusto il garante Palma sicuramente ha speso nelle sue relazioni annuali parole dure nei confronti della gestione dei CPR sulle carenze totali stiamo parlando di cittadini a cui vengono sottratti i diritti poi cittadini stranieri questa è la cosa ancora più clamorosa perché è una determinata categoria di persone che non esiste poi a livello giuridico straniero cioè cosa vuol dire? allora perché poi detenzione amministrativa sembra quasi uno scusate la parola un po' strana uno simor c'è una contraddizione c'è detenzione però per via amministrativa per una determinata categoria di persone purtroppo non c'è solo in Italia solo in Europa su questo siamo moderni ahimè purtroppo la gestione e poi ne parliamo magari dopo la gestione dello straniero è diventata una gestione detentiva io non so come regolare il flusso migratorio e allora detenzione amministrativa ti butto dentro e butto via le chiavi infatti stavo dicendo se sembra troppo la parola lager vi invitiamo appunto come stavamo dicendo prima e andrà a vedere sulle varie pagine social di mai più lager noi cpr le condizioni le foto crude che vengono postate appunto su tentativi di autolesionarsi chiaramente esatto perché poi lì poi c'è un'espressione fare la corda cioè è il tentativo di suicidio che è giornaliero o anche solo di poter io cerco di faccio la corda anche per poter accedere a un medico andare al pronto soccorso per poter evadere per poter uscire può essere curato innanzitutto innanzitutto curato perché poi un'altra delle difficoltà del CPR delle cose più incredibili che succedono allora io per entrare in un CPR devo sostenere una visita una visita di idoneità questa visita però di idoneità è assolutamente proforma cioè entrano tutti nessuno tu non puoi entrare quindi abbiamo avuto persone che alla fine abbiamo scoperto un tumore o gravi problemi psichiatrici eccetera 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 diventa una discarica scusate proprio la brutalità alla fine diventa una discarica e quindi io metto alla fine tutti gli emarginati sociali li metto lì dentro e quindi c'è il tentativo di suicidio perché mi ritrovo magari sono qui in Italia da 20 anni e mi ritrovo qui per terra senza cibo tra gli escrementi in vari in vari cpr se ne è parlato e quindi questo è noi abbiamo anche denunciato settimana scorsa nel presidio davanti alla prefettura mercoledì scorso un'altra volta noi abbiamo fatto vari presidi in nostra attività quelle foto è perché al cpr di Milano i video cpr di Milano grazie a un'azione giudiziaria fatta da ASG i detenuti perché tali sono i detenuti possono avere il cellulare perché fino a poco tempo fa la prima cosa che veniva tolta a chi entrava giusto erano tutti gli effetti personali compreso il cellulare o spaccare la videocamera in modo che non facessero il male quindi c'è stata un'azione giudiziaria il tribunale di Milano ha detto no la libertà di corrispondenza di comunicazione del cpr anche perché detenzione registrativa non solo detenuti ricordiamo quante persone qual è la capienza del cpr di Milano allora il cpr di Milano varia allora attualmente siamo sempre intorno fra i 40 e i 50 la detenzione intorno ai 100 120 si è arrivato al massimo poi alla fine quanti ne vengono facendo anche un ragionamento proprio pratico quanti arrivano la R cioè 100 per l'espulsione siamo appena sotto il 50% e poi le altre riescono quindi hanno fatto questo girone infernale per 90 adesso con la nuova legge è stata prorogata a 18 mesi a 18 mesi un anno e mezzo non 90 120 ma 180 hanno aggiunto 30 giorni subito col decreto cutro poi adesso non andava bene siamo arrivati a 18 mesi un anno e mezzo poi se c'è non c'è l'accordo di rimpatrio l'Italia con il paese della persona detenuta e poi alla fine escono magari ti fanno uscire alle alle due di notte ti ritrovi per strano magari non sei mai stato a Milano perché può essere io fanno il controllo in Molise e mi ritrovo a Milano e mi ritrovo così senza effetti personali senza nulla mi ritrovo così in mezzo di notte tra l'altro poi ricordo che i detenuti perdono anche il diritto al nome all'interno li chiamano per numero ecco forse l'agri appunto non è una parola così non è che abbiamo così a caso infatti facciamoci un secondo siamo qui sempre su Cristal Radio torniamo fra pochissimo sempre con l'avvocato Gianni Mota sempre a parlare di CPR soprattutto in questo caso del CPR di Milano Francesca Michelin stato di natura insieme ai Maleskin alle 8 e 31 minuti qui su Cristal Radio 96.2 FM e Dub Plus sito internet app per iOS e Android e anche su Milano allnews.it ben ritrovati bentornati siamo qui insieme all'avvocato Giovanni Mota della rete mai più lager no CPL ecco l'ho detta giusta l'ho detta allora stavamo parlando appunto del presidio che avete fatto quando? mercoledì scorso che era il 27 di settembre nei prezzi della prefettura perché ricordiamo questi lo dicevo prima sono gestiti da piccole cooperative che vincono ma tanto piccole proprio piccole alcuni alcuni CPR sono gestiti da grandi multinazioni grandi colossi invece a Milano sono sempre piccole cooperative ma ovviamente però dovrebbe esserci il controllo poi della prefettura ovvero del ministero dell'interno infatti durante il presidio è stata consegnata una lettera alla prefettura se ci puoi giusto elencare in quella lettera in quella breve lettera che abbiamo sostanzialmente c'era quello che vi ho appena detto nei minuti precedenti cioè l'emergenza non è non sono l'immigrazione non è l'emergenza viene creata ad arte viene creata ad arte si crea questa emergenza e noi abbiamo denunciato ancora una volta alla prefettura che c'è un posto si chiama CPR in Corelli dove vengono annichiliti i diritti fondamentali dove c'è vengono sedate le persone c'è una sedazione sostanzialmente collettiva persone che vengono poi perdo anche il diritto al nome perché con chi è il numero numero 7-8 5 hai la visita dal medico dal medico quando c'è e questo abbiamo denunciato è stata l'ennesima lettera di denuncia lo faremo anche martedì domani il 3 ottobre si ricorda la strage di Lampedusa noi saremo in piazza anche noi per ricordare che esistono i CPR in piazza Duca d'Aosto domani alle 6 e mezza e quindi noi ricorderemo questo perché poi alla fine sbarchi poi alla fine c'è il CPR una volta facciamo una manifestazione alla fine c'è il CPR ci sono stati problemi ci sono sempre c'è il problema della sanatoria sanatoria del 2020 è ancora in corso non è ancora chiuso del 2020 del 2020 c'è la questione di permessi gli sbarchi gli arrivi ma alla fine ma alla fine poi c'è il CPR a Milano c'è il CPR detto a Milano giustamente io però sai che ho sempre questo tavolo la lettera non avete avuto risposta immagino credo ancora non ne avremo mai forse diciamo che non siete così disillusi siete così illusi anzi da pensare a dire ma invece lì la politica locale cioè gli amministratori locali il sindaco l'assessore cosa dicono di questo CPR dicono nulla c'è stato un ordine del giorno mi ricordo ancora prima che aprisse e poi alla fine non è mai successo nulla il sindaco sala alla fine anzi no era favorevole al CPR e quindi ha detto va bene non ha mai avuto non ha mai speso parole contrarie all'apertura del CPR o al mantenimento del CPR che è il nostro sindaco il sindaco di questa città mai e poi il consiglio comunale neanche un ordine del giorno alla fine l'ultimo è stato cinque anni fa ancora prima che aprisse e qui o quattro anni fa e le autorità locali nella strada nulla silenzio totale forse perché i CPR sono poi stati aperti con il decreto minito e orlando infatti io volevo chiedere una domanda più mettiamola giù in maniera più politica siccome appunto è regolato da sostanzialmente circolari dicevamo in onda e fuori cosa cambia tra un governo vabbè in questo caso sappiamo che i riflettori sono riaccesi sulle vicende del CPR in maniera recente però da un governo sostanzialmente di centro-sinistra a un governo di destra centro-destra chiamiamolo come vogliamo cambiano effettivamente le cose per la data del CPR perché la mia impressione è che non sia così eh no allora il CPR nasce con la legge turco-napolitano nel 1998 testo unico di immigrazione articolo 14 testo unico di cos'è il CPR poi alla fine la vita all'interno proprio sono quelle famose circolari di cui dicevo prima a differenza del carcere c'è l'ordinamento penitenziare e quindi dal 98 c'è stata l'apertura poi a Milano mi ricordo che poi non si chiamava poi ha cambiato vari nomi CPTA CPTC e CPR ha avuto aperture chiusure aperture chiusure e quindi ma alla fine sono i 25 anni di apertura dicevamo anche prima di questi centri di permanenza ma alla fine alla fine sono stati i vari governi che sono succeduti sono sempre quelli non è cambiato molto adesso è arrivata l'esplosione col governo Meloni che addirittura ha prorogato addirittura vorrebbe prorogare 18 mesi 18 mesi adesso sono 90 120 più 30 a 18 mesi la permanenza la detenzione di persone straniere in questi in questi lager non è cambiato molto sono 25 anni di detenzione amministrativa che poi passa anche molto sotto sinezzo in questo caso però appunto i fanali cioè i fanali le luci si sono i riflettori i riflettori i fanali si sono la macchina è la sua macchina giustamente sulla sulla vicina dei cpr fuori onda appunto stava parlando dei famosi 5 mila euro di cui si sta parlando recentemente che poi alla fine con i cpr e allora perché poi perché poi ci sono queste esplosioni di attenzione mediatiche allora facciamo un po' d'ordine no stiamo facendo informazioni quindi è doveroso puntualizzare allora famoso decreto cutro che nasce sulla strage di cutro hanno fatto un decreto l'hanno chiamato cutro vabbè no comment vorrei fare dei commenti ma siamo in onda manteniamoci però si possono comprendere chiarissimo allora è stato convertito legge 40 del 2023 allora questi famosi 4.900 euro non è per chi arriva al cpr di ponte galleria milano macomer gradisca cioè quelli aperti o brindisi trapani caltanissetta allora che cosa dice se uno straniero che cerca di eludere i controlli o non è passaporto viene dai cosiddetti paesi sicuri tra cui la Tunisia dove c'è un regime un paese allo sfascio c'è un dittatore considerarlo sicuro viene allora viene come dire elude i controlli viene paese sicuro non ha il passaporto si apre una procedura si chiama accelerata come i treni di una volta i treni accelerati ma qui è molto veloce perché entro 28 giorni deve chiudersi cioè io devo fare la richiesta di asilo se viene respinta c'è il ricorso all'autorità giudiziaria ma lo fa io dove io straniero che faccio lo fa dove rimango in quei 28 giorni teorici all'interno di una struttura adesso è stata aperta Pozzallo che sembra molto un CPR non è un CPR ma è pare una struttura che sarà molto simile a tutte le strutture che sono aperte in questi anni però posso evitare di entrarci ok se io ho questi famosi 4.900 euro però non in contanti e non pagati da terzi ma se ho la fiduzione bancaria è una garanzia assicurativa cioè io arrivo da Tunisia con la mia fiduzione bancaria evito almeno di entrare questo io non lo so come poi accadrà altra sappiamo notizia dell'altro giorno che già il tribunale di Catania ha disapplicato questa legge dicendo no ai contrari principi dell'ordinamento comunitario e quindi i tre tunisini che hanno fatto sono stati scarcerati dal tribunale non dalla procura stamattina sentivo SkyTG diceva procura no dal tribunale noi siamo a Milano News Cristal Radio diciamo per cosa perfetto perfetto insomma il tema appunto è abbastanza complicato lo dicevamo però bisogna tenere appunto i riflettori sempre accesi su un tema a cui come dicevi tu Giovanni si stanno accennendo i riflettori ma bisogna anche stare attenti poi a chi li accende a cosa dice perché appunto poi le inesattezze è semplicissimo inserire in un tema del genere voi della rete insomma state facendo tante attività prossima attività c'è qualcosa che volete raccontarci allora noi saremo già dicevo come rete mai più l'agra noi CPR saremo già domani sera in piazza anche noi ricordo il Lampedusa porteremo il nostro striscione ricorderemo che alla fine poi c'è sempre un CPR poi soprattutto a Milano piazza Duca d'Aosta domani alle 18 e 30 saremo anche il 10 ottobre al cinema Beltrade alle ore 20 c'è ci sarà un documentario in cui si parlerà dei rimpatri poi cosa succede poi gli stranieri che ritornano in patria cioè sui rimpatri interverremo come rete poi noi facciamo interventi ovunque nelle scuole andiamo all'università facciamo report andiamo in giro per l'Italia l'altro giorno è arrivato dovremmo andare alla Spezia novembre quindi ci siamo richiesti in tutta Italia seguite i nostri social c'è anche una pagina c'è un link 3 in OCPR in cui ci sono tutti i nostri documenti quindi noi cerchiamo sui nostri social avendolo possiamo ci sono i video che ci mandano purtroppo i detenuti delle condizioni allucinanti uno degli ultimi avrete potuto vedere c'era questo questo signore non usciva neanche a mangiare perché era talmente sedato dagli psicofani non usciva neanche a mangiare cadevo quasi dal sonno ma ho gente vabbè poi i pestaggi che sono all'interno sono sono all'ordine del giorno tutto questo appunto sui social sulle pagine informazione vorrei dire di mai più lager no CPR grazie mille Giovanni grazie mille grazie a voi per la vostra testimonianza seguiteli seguiteli io dico questo seguiteli qualsiasi idea voi abbiate perché poi da lì ne trarrete le conclusioni perché poi vabbè uno può essere d'accordo non d'accordo con i flussi non i flussi gestiamo in una maniera gestiamo nell'altra apriamo i porti guidiamo i porti ma poi come dice giustamente Giovanni alla fine c'è sempre un CPR e in questo caso si capisce dove la mala gestione di un tema importante come l'immigrazione bipartisan una mala gestione bipartisan mi viene da dire porta a queste conclusioni l'attenzione mediatica non deve essere su prendo una parte piuttosto che l'altra ma su come dici te esiste un CPR e vediamo cosa c'è dentro speriamo che non scemi subito benissimo allora dai grazie mille Giovanni davvero alla prossima continuiamo qui su Cristal Radio adesso è il momento di Oliver Edens con Blue Monday grazie mille grazie mille